Con l'abbraccio tra il neosindaco di Falcone e Nino Genovese e il dottore Andrea Paratore che lo ha affrontato nella battaglia elettorale appena conclusa, sono state avviate le prove tecniche di distensione. Dopo tanti scontri, un segnale concreto nell'attesa di capire cosa ci riserverà il nuovo corso amministrativo, già a partire dal Consiglio Comunale, dove Genovese è in minoranza e dove rivedrà Paratore nel ruolo di consigliere di maggioranza. Se quell'abbraccio è stato l'inizio della distensione, lo capiremo a breve. Siamo tutte persone intelligenti per cui non credo che i rancori che possano essere covati, essere eserci stati in questa campagna elettorale, anche a aspra, a tratti, possano continuare né nell'immediato né nel futuro. Serve, ripeto, collaborare e credo che le nostre intelligenze ci porteranno a fare questo in maniera tranquilla e a superare anche quelle situazioni che ci sono state in campagna elettorale, ma come è anche ovvio che ci siano. I prossimi passi per quanto riguarda la sua amministrazione quali saranno da qui a qualche giorno? Ovviamente, come qualcuno ha sottolineato in questa campagna elettorale, io arrivo quasi da scolaretto. Stiamo cercando di capire com'è la situazione. Le cose da fare sono evidentemente tante. Si tratta di andare ad individuare le priorità, le cose da cui iniziare perché evidentemente le scadenze da qua in avanti si susseguono e ogni scadenza ha bisogno di un impegno costante per essere affrontata al meglio. Il lavoro sarà duro. Intanto i primi giorni saranno evidentemente un lavoro di ricognizione per capire qual è la situazione, per fotografare la situazione attuale e da qua partire per andare a costruire quel paese che vogliamo e per cui ci siamo messi in gioco.